E' un mentitore incallido, insomma un uomo sposato da pochissimo tempo che cerca di concupire una sua paziente. Per farlo affitta un mezzanino. Come mai così mattiniera? E voi? E avevo del lavoro da fare. Dove avete passato la notte? Non ho capito che... Dove avete passato la notte? Allora avevo capito bene. Il mezzanino, c'è la porta che non funziona, per cui da questa porta, quando lui si incontrerà con la sua amante, entrerà tutto l'universo mondo. Il marito dell'amante, sua suocera, sua moglie, insomma... E il suo marito non si può entrare! E come non si può entrare? E perché? Allora si può entrare. Eh io vi ringrazio signore, ma l'ho già fatto. Che mi annoiava stare su di sopra. Allora mi è venuto lo scripizio di scendere giù. I teatri sono sempre pieni, questo ci fa molto piacere, ma soprattutto si divertono molto. Per cui sembra che alla fine dello spettacolo la gente esca contento. Funziona molto il passaparola, anche lì. Devo dire che questo è un luogo dove non prende il cellulare. Venite voi, prende. Sarà un segno?